Finalmente sul territorio una struttura per disabili e per le famiglie che non hanno una certezza per il domani? Sì, una struttura che è all'amanguardia e anche perché è antesignana rispetto all'attuazione anche di una legge nazionale che noi abbiamo approvato lo scorso anno, che abbiamo fortemente voluto e che è la legge cosiddetta sul dopo di noi, cioè sull'assistenza alle persone affette da handicap e da disabilità che non hanno la possibilità di assistenza familiare ed è una legge di grande avanzamento sociale e fa piacere vedere che su questo territorio si realizza di fatto la prima struttura che è una struttura anche importante, di grande qualità, che anticipa i tempi anche di attuazione della legge stessa. Quindi è un punto importante per questa terra e anche un'occasione per dire che abbiamo fatto una buona legge che darà certezze a tante persone invece che vivevano in una condizione non solo di difficoltà personale, fisica, ma anche nell'incertezza del domani. Ecco che con questa legge trova invece il superamento e dà la possibilità a queste strutture, strutture come queste, di poter nascere, di poter vivere in un territorio e dare anche nuove opportunità. A proposito anche di questo e della struttura che inauguriamo oggi, io ho presentato nei mesi scorsi anche un'interrogazione alla Regione Campania perché c'è un problema ancora di erogazione materiale dei fondi e di ritardi anche abbastanza evidente proprio in merito alla realizzazione e alla gestione della struttura stessa. Io ho sollecitato con la mia interrogazione ovviamente la Regione Campania a corrispondere quanto dovuto perché mi sembra giusto e doveroso che chi ha fatto uno sforzo di investimento così importante e significativo possa ovviamente trovare le risorse necessarie che tra l'altro ci sono dovute perché si tratta di una sola liquidazione. Per giunta nel 2016 il Governo ha già stanziato per l'attuazione della legge del dopo di noi 9 milioni di euro per la Regione Campania in relazione ovviamente ai nuovi investimenti. Però questo aiuta chiaramente anche quegli investimenti che sono ancora sospesi in attesa di definizione di poter trovare una giusta soddisfazione. Quindi credo che da questo punto di vista la Regione debba adempiere i propri obbligo, le proprie responsabilità e consentire veramente a strutture come queste che segnano il passo, che anticipano i tempi per l'attuazione di una legge dello Stato così significativa di poter vivere e di poter ovviamente lavorare in una condizione di serenità e di prospettiva.